La normativa formazione per il consulente finanziario è il tema dell'anno, la prescrizione normativa riguarda la necessità del consulente di potersi formare in maniera sostanzialmente obbligatoria per quello che ci riferiscono rispetto ad un tema, ad una materia estremamente articolata come la materia finanziaria e quindi la relazione che il consulente ha con l'investitore e con l'utente. La normativa dispone di un obbligo formativo che in realtà riferisce ad una necessità oggettiva del consulente riguarda le competenze del consulente stesso, quindi non fa altro che ribadire ciò che in realtà è nella normalità di quella che è la professione del consulente finanziario e che il consulente finanziario fa da sempre. L'aspetto normativo è semplicemente il compimento di un'attività costante e continuativa del consulente stesso. Le aree professionali su cui il consulente deve essere ragionato sono le solite, il consulente oggi diventa sempre più consulente patrimoniale, segue il cliente, le famiglie, le imprese sia nel tradizionale ambito della gestione finanziaria sia nell'ambito fiscale, ma rilevano settori, ambiti importantissimi, assolutamente di attualità come l'ambito previdenziale e assicurativo, ma ci sono anche molte richieste di consulenza, per esempio in ambito successorio. Altrettanto importante è la parte fiscale, il consulente aggiornato in grado di supportare il cliente, chiunque esso sia, in un contesto dove la normativa fiscale è sempre più complessa, articolata e comunque si succede in maniera estremamente rapida, per cui la difficoltà è quella appunto di star dietro a queste variazioni normative, il consulente ben formato, ben istruito e in grado di dare l'affiancamento professionale corretto a chiunque dovesse rivolgersi per necessità varie. Questo è il tema centrale, il tema centrale perché rileva due aspetti fondamentali, il primo è la consapevolezza sempre più alta che il consulente deve avere del valore della sua figura professionale e dell'importanza anche sociale del ruolo, dall'altro lato la capacità da parte dell'utente, del cliente, dell'impresa o di chiunque interfacciasse il consulente finanziario, di riconoscere le qualità migliori che consistono appunto in un profilo culturale di estrema importanza, di estrema solidità. Ecco, questo connubio, questo incontro genera l'eccellenza della relazione tra il consulente finanziario e il cliente. Attraverso questa eccellenza si possono definire obiettivi, tempi e il progetto, si può definire il progetto per poter raggiungere questi obiettivi nei tempi adeguati.